Don Mario Pasqua, parroco della parrocchia di Santa Maria del Carmine, un messaggio di auguri alla comunità di Torre del Greco per le festività pasquali. Faccio i tantissimi auguri di questa Santa Pasqua a tutta la comunità di Torre del Greco e a tutte le comunità anche ecclesiale. Voglio lanciare un messaggio, è quello di prepararci con grande spiritualità e con preghiera a questi giorni di grazia che il Signore ci dona, specialmente giovedì, giovedì santo, con l'istituzione dell'Eucaristia, il segno, il gesto più bello che Gesù ha fatto con la lavanda dei piedi, il venerdì, la morte e la passione di Gesù, la grande veglia, la grande veglia di Pasqua, aspettando ecco la luce della resurrezione e poi la domenica, perché possiamo vivere veramente con grande fede, con grande fede questo momento così bello per gustare tutti il profumo della Santa Pasqua. Buona Pasqua a tutti e viviamola veramente nella pace, nella speranza e nell'amore.